Bentornati a tutti su mio canale. In questo video troverete i capitoli 9 e 10 del libro La lama sottile. Iniziamo subito. Capitolo 9. Il furto. Per prima cosa ritornarono al caffè per ristorarsi, riposare e cambiarsi d'abito. Era chiaro che Will non poteva andarsene in giro coperto di sangue e il tempo di sentirsi in colpa nel prendere cose dai negozi era passato. Quindi Will si scelse abiti e scarpe nuove e Laira, desiderosa di esserli d'aiuto e attentissima a controllare da tutte le parti l'eventuale presenza degli altri bambini, portò il tutto fino al caffè. Laira mise a bollire dell'acqua e lui se la portò di sopra nel bagno e si spogliò per lavarsi da capo a piedi. Il dolore era sordo e implacabile, ma se non altro i tagli erano netti e puliti. E Will, che aveva visto ciò che il coltello era in grado di fare, sapeva che nessun taglio avrebbe potuto essere più netto. Ma i moncherini che gli erano rimasti al posto delle dita continuavano a sanguinare abbondantemente. Quando li guardava si sentiva male e il cuore accelerava i suoi battiti e a questo, a sua volta, pareva far peggiorare l'emorragia. Si sedette sull'orlo della vasca, chiuse gli occhi e trasse parecchi respiri profondi. Alla fine si sentì più calmo e cominciò a lavarsi. Fece del suo meglio, asciugandosi con salviette sempre più insanguinate. Poi indossò gli albiti nuovi, sforzandosi di non sporcare anche quelli di sangue. Ora dovrei tornare a legarmi le bende, disse Allaera. Stringile più che puoi. Non importa se fa male, purché si riesca a fermare il sangue. Lei fece a pezzi un lenzuolo e glielo avvolse più volte, stringendolo il più possibile sopra la ferita. Lui stringse i denti, ma non riuscì a evitare le lacrime. Le asciugò via senza una parola, e neanche Laera disse nulla. Quando ebbe finito, lui le disse grazie. Poi aggiunse, Senti, voglio che tu porti una cosa nel tuo zaino per me, nel caso che ci sia impossibile tornare qui. Sono solo delle lettere, puoi leggerle se vuoi. Tirò fuori la cartella di cuoio verde, e le porse i fogli di carta velina, per posta aerea. Non le leggerò, a meno che... Non mi importa, altrimenti non l'avrei detto. Lei ripiegò le lettere, e lui si stese sul letto. Spinse di lato la gatta, e cadde addormentato. Molto più tardi, quella stessa notte, Will e Laera si accucciarono nel dialetto, che correva lungo la macchia di arbusti che cresceva all'ombra degli alberi del giardino di Sir Charles. Dalla parte di Cittagazze si trovavano in un parco erboso attorno a una villa in stile classico, che biancheggiava la luce della luna. Avevano impiegato un bel pezzo a raggiungere la casa di Sir Charles, muovendosi principalmente entro Cittagazze, con frequenti fermate, per aprire una finestra e controllare la loro posizione nel mondo di Will, e poi chiuderla non appena riuscivano a capire dov'erano. Non con loro, ma neppure molto indietro, c'era la gattina tigrata. Aveva sempre dormito, a partire dal momento in cui l'avevano salvata dai ragazzini, che volevano lapidarla, e ora che era tornata a svegliarsi, era rilutante a lasciarli. Come se pensasse che dovunque ci fossero loro due, lei era al sicuro. Will era ben lontano dall'esserne certo, ma aveva già abbastanza problemi in testa anche senza la gatta, e la ignorò. Un po' alla volta aveva preso una sempre maggiore familiarità con il coltello, acquisendo maggiore sicurezza nell'utilizzarlo. Ma la ferita le faceva più male di prima, pulsava profondamente, senza sosta, e le nuove bende che l'aera gli aveva sistemato dopo il suo risveglio erano già tutte intrise di sangue. Will aprì una finestra nell'aria, non lontano dalla villa biancheggiante, e uscirono entrambi nel tranquillo vialetto di Heddington, per trovare il modo migliore per raggiungere lo studio in cui Sir Charles aveva risposto all'alettiometro. Due riflettori illuminavano il giardino, e vi erano anche delle luci accese alle finestre della facciata, anche se non in quelle dello studio. Quel lato invece era illuminato solo dalla luna, e la finestra dello studio era buia. Il vialetto correva in mezzo agli alberi fino a sbucare un'altra strada, e non era illuminato. Sarebbe stato facile per un qualsiasi topo d'appartamento arrivare inosservato fino alla macchia di arbusti e quindi al giardino, se non fosse stato per il solido recinto di sbarre di ferro, alte il doppio di Will, con delle spine appuntite in cima, che correva su tutto quel lato della proprietà di Sir Charles. Tuttavia, quello non era certo un ostacolo per la lama sottile. «Reggimi questa sbarra mentre io la taglio», bisbiglia Will. «Tienila forte quando cade». Leira fece quel che le aveva detto, e lui tagliò quattro sbarre in tutto, in modo da poter entrare senza difficoltà. Leira le posò una per volta sull'erba, e poi passarono dall'altra parte, muovendosi in mezzo ai cespugli. Appena videro chiaramente quel lato della casa, con la finestra dello studio ombreggiata dai rampicanti proprio davanti a loro, al di là del prato ben rasato, Will disse piano. «Adesso apro una finestra per entrare a cigazze, qui. La lascio aperta, e mi sposto a cigazze, fino al punto in cui credo che si trovi lo studio. A quel punto aprirò un'altra finestra verso questo mondo, poi prenderò l'allettiometro da quella specie di armadio. Chiuderò la finestra e ritornerò a questa qui. Tu rimani in questo mondo e fai la guardia. Appena ti chiamo, passa a cigazze da questa finestra e io la richiuderò. Va bene? Sì, bisbigliò lei. Staremo ben attenti tutti e due, io e Pan. I daimon era un piccolo gufo castano, quasi invisibile nell'ombra chiazzata degli alberi. I suoi grandi occhi pallidi coglievano ogni movimento. Will fece un passo indietro e sollevò il coltello, toccando e sondando nell'aria con movimenti delicatissimi, e dopo circa un minuto trovò un punto in cui poteva effettuare il taglio. Lo fece velocemente e aprì una finestra verso il parco inondato dalla luna di cigazze. Quindi indietreggiò per valutare il numero di passi che gli ci sarebbero voluti in quel mondo per raggiungere lo studio e memorizzarne la direzione. Poi, senza una parola, fece un passo avanti e scomparve. Lyra si accucciò lì vicino. Pantalaimon era polaiato su un ramo sopra la sua testa e voltava il capo da una parte e dall'altra, in silenzio. Riusciva a sentire i rumori del traffico di Huntington, dietro le spalle, e i passi tranquilli di qualcuno che percorreva la strada in cui sbuccava quel viottolo. E persino movimenti, quasi privi di peso, degli insetti tra i ramoscelli e le foglie ai suoi piedi. Passò un minuto, poi un altro. Dov'era Will adesso? Si sforzò di vedere qualcosa attraverso la finestra dello studio, ma non era che un quadrato di buio diviso in settori affiancati, sopra il quale pendeva qualche rampicante. Seachars si era seduto lì dentro, nel sedile ricavato sul davanzale, solo quella mattina, per poi incrociare le gambe sistemandosi la piega dei pantaloni. Dove si trovava l'armadietto rispetto alla finestra? Sarebbe riuscito Will a entrare lì dentro senza disturbare nessuno di coloro che erano in casa? Lyra riusciva a sentire anche il battito del suo stesso cuore, ma poi Pantalaemon emise un suono leggero e nello stesso momento un rumore diverso provenne dal davanti della casa, sulla sinistra di Lyra. Lei a vedere la facciata non ci arrivava, ma riuscì a vedere una luce spazzare lo spazio fra gli alberi e sentì un profondo scricchiolio rumoroso, un suono di pneumatici sulla ghiaia. Il motore dell'auto non l'aveva sentito affatto. Cerco con gli occhi Pantalaemon e vide che stava già planando il silenzio in avanti, allontanandosi da lei tanto quanto poteva. Poi torno indietro nel buio e le si posò sul pugno. Sta ritornando Sir Charles, bisbigliò, e c'è qualcun altro con lui. Riprese il volo e questa volta Lyra lo seguì, camminando in punta di piedi con estrema cautela, sulla terra soffice, accuciandosi dietro i cespugli e mettendosi infine a quattro zampe per guardare tra le foglie di un cespuglio di alloro. La Ross-Royce era ferma davanti alla casa e l'autista le stava girando intorno per aprire la portiera dal lato del passeggero. Sir Charles era in piedi, in attesa, sorridente, e offriva il braccio alla donna che ne stava uscendo. E nel momento in cui entrò nel suo campo visivo, Lyra sentì un colpo al cuore. Il colpo più duro che avesse subito da quando era fuggita da Bolvangar, perché l'ospite di Sir Charles era sua madre, la signora Colter. Will percorse con grande attenzione il prato illuminato dalla luna di Cittagazze, contando ogni passo e mantenendo più chiaramente che poteva il ricordo della posizione dello studio, cercando di localizzarlo in rapporto alla villa che sorgeva lì vicino, bianca di stucchi e colonne, un giardino all'italiana con delle statue e una fontana, e rendendosi ben conto di quanto fosse esposto a ogni sguardo in quel parco inondato dalla luna. Quando pensò di essere giunto nel punto giusto, si fermò e tese di nuovo dinanzi a sé il coltello, tastando attentamente in avanti. Quei minuscoli intervalli invisibili potevano essere dovunque, ma non dappertutto, altrimenti ogni casuale fendente del coltello sarebbe bastato ad aprire una finestra. Per prima cosa tagliò un'apertura piccola, non più grande della sua mano, e ci guardò attraverso, nient'altro che buio. Dall'altro lato non riusciva a capire dove fosse. Chiuse la finestra, ruotò di 90 gradi e ne aprì un'altra. Questa volta si trova davanti al tessuto, un pesante velluto, quello delle tende dello studio. Ma dov'erano, in rapporto al mobile che cercava? Dovette chiudere anche quella, girarsi dall'altra parte, riprovare. E il tempo passava. La terza volta fu più fortunata. Poteva vedere l'intero studio nella vaga luminosità proveniente dalla porta aperta sul salone di ingresso. C'era la scrivania, il divano, l'armadio. Distinse un lieve bagliore, lungo la sagoma di un microscopio d'ottone. E nella stanza non c'era nessuno, e la casa era tutta in silenzio. Non poteva andar meglio. Valutò accuratamente la distanza. Chiuse quella finestra. Fece quattro passi in avanti e tornò a sollevare il coltello. Se non si era sbagliato, doveva essere nel posto esatto per sporgersi, tagliare il vetro dell'armadio, tirar fuori l'aletiometro e chiudersi alle spalle la finestra. Ne aprì una all'altezza giusta. La vetrina dell'armadio distava da lui quanto era larga una mano. Lui vi avvicinò al viso, osservando accuratamente tutti gli scaffali, uno per uno, dalla cima al fondo. L'aletiometro non c'era. All'inizio, Will pensò di aver sbagliato armadio. Ce n'erano quattro nella stanza. Li aveva contati quella mattina e ne aveva memorizzato le posizioni. Alti scatoloni squadrati di legno scuro, con i lati e i davanti di vetro, e scaffali ricoperti in veluto, fatti per esporre oggetti di valore di porcellana, o d'avorio o d'oro. Era possibile che avesse aperto una finestra davanti a quello sbagliato, ma sullo scaffale più alto c'era quel massiccio strumento con gli anelli d'ottone. Era stato ben attento a prenderne nota. E sullo scaffale centrale, dove Sir Charles aveva posato l'aletiometro, c'era uno spazio vuoto. Il mobile era quello giusto e l'aletiometro non c'era. Will indietreggiò un momento e trasse un profondo respiro. Gli toccava entrare dentro sul serio e cercare in giro. A tagliare finestre qua e là a caso. Ci avrebbe messo tutta la notte. Chiuse quella di fronte all'armadio e ne aprì un'altra per osservare il resto della stanza, e dopo averla esaminata ben bene, la richiuse, per aprirne una più ampia dietro il divano, da cui avrebbe potuto facilmente uscire via anche in fretta, se ce ne fosse stato bisogno. A quel punto la mano gli pulsava di un dolore brutale, e un capo della benda aveva cominciato a disfarsi e pendeva dalla fasciatura. Se la rotolò, torna la mano e la fisso meglio che potè, e poi passa attraverso la finestra ed entrò completamente nella casa di Sir Charles, accucciandosi dietro il divano di cuoio, il coltello nella mano destra, le orecchie tese. Non avendo sentito alcun rumore, si alzò lentamente in piedi, e osservò la stanza tutto intorno. La porta che si apriva verso l'ingresso era semiaperta, e la luce che ne proveniva era più che sufficiente per guardarsi attorno. Gli armati, gli scaffali e i quadri erano tutti lì, uguali a come erano stati la scorsa mattina, indisturbati. Si avventurò sul silenzioso tappeto, e guardò una alla volta in ognuno degli armadi. Non c'era, e neppure sulla scrivania, fra le carte e i libri impilati con ordine, né sopra il caminetto fra i biglietti di invito a questa inaugurazione o a quel ricevimento, né sui cuscini del sedile presso la finestra, né sul tavolo ottagonale dietro la porta. Tornò alla scrivania, con l'intenzione di cercare nei cassetti, ma con un pesante senso di fallimento incombente. In quel momento, però, sentì un lieve rumore di pneumatici sulla ghiaia. Era così lieve che quasi pensò di averlo immaginato, ma rimase completamente immobile, tendendo le orecchie. Il rumore cessò. Poi sentì aprirsi il portone d'ingresso. Tornò immediatamente al divano, e vi si accucciò dietro, accanto alla finestra, che si apriva sul prato inargentato dalla luna di Cittagazze. E vi era appena giunto, quando udì, proveniente da quell'altro mondo, un suono di passi leggeri, in corsa sull'erba. Guardò attraverso la finestra, e vide l'aera affrettarsi verso di lui. Fece appena in tempo ad agitare la mano e mettersi un dito sulle labbra, e lei ralentò, rendendosi conto che lui aveva capito che Sir Charles era tornato a casa. Non ce l'ho, bisbigliò lui, quando lei si fu avvicinata. Non c'era più. Probabilmente ce l'ha con sé. Ora mi metto ad ascoltare e vedo se lo rimette a posto. Tu resta qui. No, è molto peggio, disse lei, in uno stato molto simile al panico vero e proprio. C'è lei insieme a lui, la signora Colter, mia madre. Non so come abbia fatto ad arrivare qui, ma se lei mi vede, sono morta. Will, sono perduta. E poi adesso ho capito chi è a lui. Mi sono ricordata dove l'avevo già visto. Will, lo chiamano Lord Boreal. L'ho incontrato al cocktail party della signora Colter, quando poi sono scappata via, e quindi lui sapeva chi ero io, per tutto il tempo. Shhh, non restare qui se devi far rumore. Lei riprese il controllo, degluti a vuoto con forza, e scosse il capo. Scusami, voglio restare con te, bisbigliò. Voglio sentire quello che si dicono. Taci ora. Perché aveva sentito delle voci nell'ingresso. Loro due erano tanto vicini da potersi toccare. Lui nel suo mondo, lei a cittagazze. E vedendo la benda penzolante di Will, Laira gli battì sul braccio e mimò il gesto di tornare a legarla. Lui le tese la mano, perché lo facesse, restando intanto accoccolato, con la testa piegata di lato, nello sforzo di tenderlo orecchio. Una luce si accese nella stanza. Lui, Sir Charles, parlare con il servitore, congedarlo, entrare nello studio e chiudere la porta. «Posso offriti un bicchiere di Tokai?» disse. Una voce di donna, bassa e dolce, replicò. «Come sei caro, Carlo! È da molti anni che non gusto del Tokai. Siediti sulla poltrona accanto a camminetto. Vi fu un lieve gorgoglio di vino versato, il tintigno di una caraffa sull'orlo di un bicchiere. Un mormorio di ringraziamento. E poi Sir Charles si sedette sul divano, a pochi centimetri di distanza da Will. «Alla tua, Marisa!» disse lui sorseggiando il vino. «E adesso, se tu mi dicessi che cosa desideri, voglio sapere dove ti sei procurato l'aletiometro. Perché? Perché lo aveva l'aera e io voglio trovarla. Non riesco a immaginare perché mai tu debba desiderarla. È una ragazzaccia repellente. Ti ricordo che è mia figlia. E quindi è ancora più repellente, perché deve aver resistito al fascino della tua influenza di proposito. Nessuno potrebbe farlo per caso. Dov'è? Te lo dirò, te lo prometto. Ma prima devi dirmi una cosa tu. «Se posso», disse lei, in tono diverso. Che a Will sembra poter essere di avvertimento. La sua voce era inebriante, cullante, dolce, musicale e anche giovane. Bramava di sapere che aspetto aveva. Perché l'aera non le aveva mai descritta e il suo viso, che accompagnava una voce del genere, doveva per forza essere notevole. Cosa vuoi sapere? Che cosa ha in mente Azriel? Vi fu qualche momento di silenzio, come se la donna stesse calcolando quel che poteva dire. Will si volta a guardare l'aera, dall'altra parte della finestra, e vide il suo viso, illuminato dalla luna, con gli occhi dilatati dalla paura, mordersi le labbra e restare in silenzio. Stava ascoltando con tutte le sue forze, come del resto stava facendo anche lui. Infine la signora Colter disse «Molto bene, te lo dirò». Lord Azriel sta raccogliendo un esercito, con lo scopo di condurre a termine la guerra che è stata combattuta nei cieli molti eoni fa. Che cosa medievale? Tuttavia, sembra avere a disposizione dei poteri molto, molto moderni. Cosa ha combinato con il polo magnetico? Ha trovato il modo di far saltare la barriera che separa il nostro da alcuni altri mondi. Questo ha causato profondi sconvolgimenti al campo magnetico terrestre. E questo dovrebbe ripercuotersi anche in questo mondo. Ma tu come fai a sapere di queste cose? Carlo, io penso che ora sei tu che dovresti rispondere a qualche mia domanda. Che mondo è questo? E come hai fatto portarmi qui? È un mondo fra milioni di altri. Vi sono delle aperture che conducono dall'uno all'altro, ma non sono facili da trovare. Io ne conosco forse una dozzina, ma i luoghi sui quali si aprivano si sono spostati. E questo deve essere dovuto a ciò che ha fatto Asriel. A quanto pare adesso possiamo passare direttamente da questo mondo al nostro. E probabilmente anche a molti altri. Prima c'era un solo mondo che faceva un po' da crocevia. E tutte le porte si aprivano su di esso. Quindi, puoi ben immaginare quanto sono rimasto sorpreso di vedere te, quando sono passato dall'altra parte oggi. E quanto mi abbia fatto piacere poterti portare qui direttamente, senza correre il rischio di passare per Cittagazze. Cittagazze? E cos'è? Il crocevia. Un mondo per cui io nutro un forte interesse, mia cara Marisa. Ma troppo pericoloso, perché noi possiamo visitarlo in questo momento. Perché pericoloso? Pericoloso per gli adulti. i bambini possono andarci liberamente. Cosa? Devo assolutamente sapere tutto, Carlo, disse la donna. E Will sentì bene la sua appassionata impazienza. È proprio il cuore di tutto questa differenza tra bambini e adulti. Contiene l'intero mistero della polvere. È per questo che devo ritrovare la bambina. E le streghe hanno un nome per indicarla. Ero quasi riuscita a saperlo. C'ero andata vicinissima, da una strega in persona, ma è morta troppo in fretta. Devo trovare quella bambina. È lei che ha la risposta, in qualche maniera. Io devo conoscerla. E lo farai. Questo strumento la riporterà da me, non temere. E una volta che mi avrà dato quello che voglio, potrai tenertela. Ma dimmi della tua strana guardia del corpo, Marisa. Non ho mai visto dei soldati come quelli. Chi sono? Uomini, nient'altro. Ma sono stati sottoposti all'intercisione. Sono privi di Daimon e quindi non hanno né paura né immaginazione né libera volontà e vanno avanti a combattere fino a che non vengono fatti a pezzi. Privi di Daimon. Beh, questo è davvero interessante. Mi chiedo se posso proporre un piccolo esperimento, sempre che tu possa sacrificarne uno. Mi piacerebbe vedere se quegli spettri li trovano interessanti o no. Se non lo fanno, forse dopo tutto potremmo essere in grado di viaggiare all'interno di cittagazze. Gli spettri? Che cosa sono? Te lo spiegherò più tardi, mia cara. Sono il motivo per cui gli adulti non possono entrare in quel mondo. La polvere, i bambini, gli spettri, i Daimon, l'intercisione. Sì, potrebbe benissimo funzionare. Prendi un altro po' di vino. Voglio sapere tutto, disse lei, al di sopra del suono del vino versato nei bicchieri. E ci conto da parte tua. E adesso dimmi, che cosa ci fai qui, in questo mondo? È qui che venivi quando noi pensavamo che tu fossi in Brasile o nelle Indie? Ho trovato la strada per venire qui molto tempo fa. Era un segreto troppo buono per rivelarlo a qualcuno, persino a te, Marisa. Mi sono sistemato piuttosto comodamente, come puoi vedere. Far parte del Consiglio di Stato giù a casa mi ha reso facile capire dove si trova il potere anche qui. In effetti sono diventato una spia, anche se non ho mai detto ai miei padroni proprio tutto ciò che sapevo. I servizi di sicurezza di questo mondo si sono preoccupati per anni e anni dell'Unione Sovietica. Noi la chiamiamo Muscovia. E malgrado la minaccia si è diminuita, anche adesso ci sono stazioni di ascolto e strumenti rivolti in quella direzione e io continuo a essere in contatto con quelli che dirigono le spie. E di recente sono venuto a sapere di certi profondi disturbi del campo magnetico terrestre. I servizi di sicurezza sono in allarme. Tutti i paesi che effettuano ricerche di fisica, quella che noi chiamiamo teologia sperimentale, stanno chiedendo con grande urgenza ai loro scienziati di scoprire che cosa sta succedendo. Perché sanno che qualcosa sta succedendo. E sospettano anche che abbia qualcosa a che fare con altri mondi. Anzi, hanno qualche buon indizio in materia di fatto. Stanno effettuando delle ricerche sulla polvere. Oh sì, la conoscono anche qui. C'è un gruppo di scienziati proprio in questa stessa città che ci lavora. E c'è un'altra cosa. Un uomo che è scomparso dieci o dodici anni fa su al nord e i servizi di sicurezza pensano che fosse in possesso di certe informazioni di cui hanno un gran bisogno, e cioè della posizione di una porta tra i mondi, come quella che tu hai attraversato qualche ora fa oggi stesso. Quella trovata da lui è la sola di cui loro sappiano. Come puoi immaginare, non le ho detto di quelle che conosco io. Quando sono iniziate queste nuove perturbazioni, loro si sono messe a cercare quest'uomo. E poi, naturalmente Marisa, anch'io sono curioso. E desidero fortemente accrescere le mie conoscenze. Will rimase come gelato, con il cuore che li batteva così forte in petto che ebbe paura che i due adulti avrebbero finito per sentirlo anche loro. Sir Charles stava parlando proprio di suo padre. E così, ecco chi erano quegli uomini, ed ecco di cosa andavano in cerca. Ma per tutto il tempo fu consapevole anche della presenza nella stanza di un'altra cosa. Oltre alle voci di Sir Charles e della donna, c'era un'ombra che si muoveva a lungo il pavimento, o almeno lungo quella parte, che ne poteva vedere oltre l'estremità del divano e al di là delle gambe del tavolino ottagonale. Ma Sir Charles e la donna erano immobili. Quell'ombra si muoveva a balzi rapidi e furtivi, e a Will dava un gran fastidio. L'unica luce della stanza proveniva da una lampada a stelo accanto al caminetto. Quindi l'ombra era chiara e ben definita, ma non restava mai ferma abbastanza a lungo perché Will potesse capire di cosa si trattasse. Poi accadero due cose. La prima fu che Sir Charles nominò l'alettiometro. Per esempio, disse, proseguendo il discorso iniziato, sono molto curiosa a proposito di questo strumento. Perché non mi dici come funziona? E posò l'alettiometro sul tavolino ottagonale accanto alle estremità del divano. Will lo vide benissimo. Avrebbe quasi potuto toccarlo. La seconda cosa che accade fu che l'ombra si fermò. La creatura, che ne era la fonte, doveva essersi appollaiato sullo schienale della poltrona della signora Colter, perché la luce che veniva da quella parte ne disegnò chiaramente l'ombra sul muro. E nel momento in cui si fermò, Will si rese conto che era il diamond della donna, una scimmia accovacciata, che voltava il capo di qua e di là, in cerca di qualche cosa. Will sentì l'era tirare un gran respiro dietro di lui nel momento in cui la vide anche lei. Si voltò in silenzio e bisbigliò. Ritorna all'altra finestra e passa nel suo giardino. Trova dei sassi e lanciali contro lo studio, in modo che guardino da un'altra parte per un momento e io possa prendere l'alettiometro. Poi corri all'altra finestra e aspettami lì. Lei a noi si girò e corse via silenziosamente sull'erba. Will tornò a girarsi dall'altra parte. La donna stava dicendo «Il maestro del Jordan College ha un vecchio rimbecillito. perché mai lo avrebbe dato a lei? Non riesco a immaginarlo. Ci vogliono anni e anni di intenso studio per capirci anche solo qualche cosina». «E ora sei tu che mi devi qualche informazione, Carlo. Come lo hai trovato e dov'è la bambina?» L'ho vista usarlo in un museo giù in città. L'ho riconosciuta naturalmente perché l'avevo incontrata al tuo cocktail party tanto tempo fa e mi sono reso conto che doveva aver trovato una porta di accesso a questo mondo. E poi ho capito che avrei potuto utilizzarlo per un mio scopo particolare e così, quando mi sono imbattuto in lei una seconda volta, gliel'ho rubato. «Sei molto franco. Siamo tutti e due adulti. Non c'è ragione di schermirsi. E adesso lei dov'è? Cosa ha fatto quando si è accorta di non averlo più? È venuta a ritrovarmi, il che deve aver richiesto un certo coraggio. E un bel po' di faccia tosta, immagino. Coraggio e faccia tosta non le mancano di certo. E cosa ha intenzione di farne? Qual è questo tuo scopo particolare? Le ho detto che avrebbe potuto riaverlo indietro purché mi procurasse una certa cosa, una cosa che non potevo andare a prendermi da solo. E di cosa si tratta? «Non so se tu...» E quello fu il momento in cui primo sasso sfondò la finestra dello studio. Si ruppe con un gratificante crollo di vetri e istantaneamente il daimo scimmia balzò via dallo schienale della poltrona, mentre due adulti rimanevano senza fiato. Poi giunse il rumore di un altro urto e poi un altro, e Will sentì il divano muoversi mentre Sir Charles si alzava. Will si sporse in avanti e afferrò l'alettiometro dal tavolino, se lo infilò in tasca e torno di slancio dall'altro lato della finestra. Non appena si trovò sull'erba di cittagazze, tastò nell'aria in cerca di quei bordi elusivi, calmandola propriamente, respirando lento, consapevole sempre che a pochi metri di distanza vi era un pericolo orrendo. Poi venne un urlo stridente, né umano né animale, ma peggiore dell'uno e dell'altro, e lui seppe che era quello odioso scimiotto. A quel punto era riuscito a chiudere gran parte della finestra, ma restava ancora un piccolo buco all'altezza del suo petto, e poi fece un salto indietro, perché in quello squarcio era penetrata una manina pelosa e dorata dai neri artigli e una faccia, una faccia da incubo. I denti dello scimiotto dorato erano scoperti. I suoi occhi ardevano, e balzò fuori, diretto contro Will, un tale concentrato di malevolenza che lui lo risentì quasi come un colpo di lancia. Un altro secondo, e sarebbe passato, e sarebbe stata la fine. Ma Will aveva ancora in mano il coltello, e lo alzò e menò subito due fendenti, sinistra-destra, attraverso la faccia della scimmia, o dove sarebbe stata la sua faccia, se non l'avesse ritirata giusto in tempo. Ciò però diede a Will l'istante di cui aveva bisogno per afferrare i bordi della finestra e richiuderli. Il suo mondo era scomparso, e lui era solo nel parco illuminato dalla luna cittagazze, ansimante e tremante, e orribilmente spaventato. Ma ora c'era l'aera da soccorrere. Tornò di corsa fino alla prima finestra, quella che aveva aperto nella macchia di arbusti, e guardò dall'altra parte. Le foglie scure dell'alloro e dell'agrifoglio li coprivano la visuale, ma lui allungò un braccio e le spinse da un'altra parte, per vedere chiaramente quel lato della casa, con la finestra rotta dello studio nettamente risalto sotto il chiaro di luna. E mentre guardava, vide lo scimiotto balzare al torno all'angolo della casa, percorrendo il prato con la velocità di un gatto, e poi vide Sir Charles e la donna seguirlo da presso. Sir Charles aveva una pistola. La donna, quanto a lei, era bellissima. Will ne rimase scioccato, così graziosa sotto quella luna, i brillanti occhi neri spalancati e carichi d'incanto. La snella figura leggera e piena di grazia, ma nel momento in cui schioccò le dita, la scimmia dorata le balzò in braccio, e Will vide che la donna dal viso dolce e il malvagio scimiotto erano un essere solo. Ma la era dov'era? Gli adulti si guardavano intorno, ma poi la donna mise giù la scimmia, che prese a spostarsi qua e là sull'erba, come annusando in cerca di una traccia o tentando di trovare delle impronte. Tutto intorno era silenzioso. Se l'aera si trovava già nella macchia, non avrebbe potuto muoversi senza fare un rumore che l'avrebbe subito tradita. Sir Charles sistemò qualcosa sulla pistola, con un lieve clic. La sicura. Sbirciò nella macchia, parve guardare direttamente in viso Will, ma i suoi occhi proseguirono il loro movimento. Poi entrambi gli adulti guardarono alla loro sinistra, perché la scimmia aveva udito qualcosa, e un lampo balzò dove doveva trovarsi l'aera, e un momento più tardi l'avrebbe trovata. E proprio in quell'istante la gatta tigrata saltò fuori dalla macchia sull'erba, soffiando. Lo scimiotto l'udì e si contorse a mezz'aria per lo stupore, anche se difficilmente avrebbe potuto essere più stupefatto dello stesso Will. La scimmia ricadde sulle quattro zampe e affrontò la gatta. Questa inarcò la schiena, la coda eretta, e si spostò di sbieco, sibilando, sfidandola, sputacchiando. Lo scimiotto le balzò addosso, la gatta si impennò, menò fendenti a destra e a sinistra, con le zampe dagli artigli accuminati, troppo veloce per seguirla con lo sguardo, e subito l'aera si trovò accanto a Will, capitombolando attraverso la finestra con pantalimo accanto. La gatta strillò, e strillò anche lo scimiotto, quando gli artigli della gatta gli graffiarono la faccia. Allora la scimmia si voltò e balzò in braccia la signora Colter, e la gatta si slanciò tra i cespugli del mondo che era il suo, e scomparve. Will e l'aera erano dall'altra parte della finestra. Will cercò di nuova tentoni quei bordi, quasi intangibili nell'aria, e li stirò in fretta per unirli, chiudendo la finestra lungo tutta la sua lunghezza, mentre attraverso lo spazio, sempre più piccolo, giungeva un rumore di passi fra i ramoscelli ed i rami spezzati. Non vi fu che un buco grosso come la mano di Will. Poi fu chiuso anche quello, e tutto il mondo fu in silenzio. Lui cade in ginocchio, sull'erba ruggiadosa, e cercò confusamente in tasca l'aletiometro. «Ecco», disse all'aera, «lei lo prese, con le mani tremanti, lui risistemò il coltello nel fodero. Poi giacqua a terra, tremando in tutte le membra, e chiuse gli occhi. Sentì la luce della luna inondarlo d'argento. Ella era, che li disfaceva la benda e tornava a legarla con movimenti delicati. «Oh, Will», la sentì dire, «grazie per quello che hai fatto, per tutto questo. Spero che la gatta stia bene», borbottò lui. «È proprio come la mia Moxie. Probabilmente se ne sarà già andata a casa. È tornata nel suo mondo. Starà benissimo adesso. Lo sai che cosa ho pensato? Ho pensato che lei fosse il tuo daimon, per un secondo. Ha fatto quel che avrebbe fatto un buon daimon, comunque. Noi l'abbiamo salvata, e lei ha salvato noi. Vieni, Will, non stare sdraiato sull'erba, è tutta bagnata. «Devi venire a sdraiarti in un letto vero, altrimenti prenderai freddo. Andiamo in quella grande casa laggiù. Ci devono essere dei letti, roba da mangiare e tutto il resto. Vieni, ti metterò delle nuove bende. Preparerò il caffè, farò una frittata, tutto quello che vuoi, e poi andremo a dormire. Saremo a posto ora che abbiamo di nuovo l'alettiometro. Vedrai. Non farò nient'altro che aiutarti a trovare tuo padre. Te lo prometto. Lo aiutò ad alzarsi, e si incamminarono piano per il giardino verso la grande casa che biancheggiava sotto la luna. Capitolo 10. Lo sciamano. Lee Scorsby sbarcò al porto che si trovava all'estuario del fiume Genisei, e trovò il luogo in preda al caos. Pescatori che cercavano di vendere le loro magre prede, i pesci sconosciuti che si erano trovati nelle reti, agli stabilimenti di inscatolamento. I proprietari delle navi, irritati dall'aumento delle tasse portuali con cui le autorità avevano cercato di far fronte alle inondazioni, i cacciatori e mercanti di pellice rimaste privi di ogni possibilità di lavoro in seguito al rapido disgelo delle foreste e all'imprevedibile comportamento degli animali. Sarebbe stato certamente duro ad entrarsi verso l'interno lungo le strade, perché già in tempi normali la strada non era più che un sentiero disboscato sulla terra gelata. E adesso che lo stesso permafrost si andava sciogliendo, la superficie era diventata una palude di fango ribollente. Così Lee mise il suo pallone e il resto dell'equipiaggiamento in magazzino, con il suo oro, che ormai stava cominciando a scarseggiare. Affittò una barca con un motore a benzina e comprò diverse taniche di combustibile e anche un po' di proviste. Poi si avviò sul fiume in piena. All'inizio avanzò lentamente. Non solo la corrente era veloce, ma le acque erano cariche di detriti di ogni genere, tronchi d'albero, cespugli, animali annegati e una volta anche il cadavere gonfio di un uomo. Dovete timonare con grande attenzione e tenere alti i giri del motore per poter avanzare almeno un po'. Era diretto al villaggio dove si trovava la tribù di Grumann. La sua unica guida erano i ricordi di quando aveva sorvolato la zona alcuni anni prima. Ma quei ricordi erano chiari e non incontrò grandi difficoltà nel trovare la rotta giusta fra le rapidi correnti, anche se alcuni dei banchi di terra erano scomparsi sotto le acque di un marrone lattiginoso che li aveva sommersi. L'aumento di temperatura aveva stimolato gli insetti e una nuvola di moscerini offuscava tutti i contorni. Lì si sparmò sul viso un unguento a base di stramonio e fumò un bel po' di sigari acri che riuscirono a tenere a bada gli insetti peggiori. Quanto a esser se ne stette seduta taciturna sulla prua, le lunghe orecchie appiattite lungo la schiena magra e gli occhi aguzzi. Erano abituati al silenzio reciproco, parlavano quando ce n'era bisogno. Al mattino del terzo giorno lì diresse la piccola imbarcazione superfiumiciatolo che veniva a unirsi alla corrente principale e fluiva da una linea di basse colline che avrebbe dovuto essere coperto da uno spesso strato di neve, ma in cui si cominciavano invece a vedere zone e strisce di color marrone. Ben presto il fiumiciatolo si trova a scorrere fra i bassi pini e abeti e dopo qualche miglio giunsero a una grossa roccia rotonda, alta quanto una casa, dove lì si avvicinò alla riva e ormeggiò la barca. «C'era un imbarcadero qui», disse a Esther. «Ti ricordi del vecchio cacciatore di foche, della nuova zembla? Che ce n'ha parlato? Deve essere due metri sott'acqua ormai». «Allora spero che abbiano avuto il buon senso di costruire il villaggio abbastanza in alto», rispose lei saltando a terra. Mezz'ora più tardi lì deponeva lo zaino accanto alla casa di legno del capo villaggio e si girava per salutare la piccola folla che si era radunata. Usò il gesto universale che nelle terre del nord indicava amicizia e posò il fucile ai suoi piedi. Un vecchio tartaro siberiano, gli occhi quasi perduti nelle rughe, posò a terra il suo arco accanto a fucile. Il suo daimo, un ghiottone, storse il naso in direzione di Esther, che piegò brevemente un orecchio in risposta. E poi il capo villaggio parlò. Lì rispose, e i due tentarono una mezza dozzina di lingue prima di trovarne una con cui poter parlare. «I miei rispetti a te e alla tua tribù», disse lì. «Ho qui un po' di foglia da fumo, che non è degna di te, ma che sarei onorato di donarti». Il capo a noi contento, e una delle sue mogli ricevete il fagotto che li aveva estratto dallo zaino. «Io cerco un uomo chiamato Grumman», disse lì. «Ho sentito dire che era imparentato con voi per via di adozione. Può aver preso un altro nome, ma quell'uomo è un europeo». «Ah», disse il capo villaggio, «ti stavamo aspettando». Il resto degli abitanti del villaggio, raccolti al sole della zona di fango fumante al centro delle case, non riuscì a capire le parole, ma vide il piacere del capo, piacere e sollievo. Lì sentì pensare a Esther. Il capo villaggia a noi diverse volte. «Abbiamo atteso il tuo arrivo», tornò a dire. «Tu sei venuto per condurre il dottor Grumman nell'altro mondo». Le sopracciglia di lì si sollevarono, ma lui si limitò a dire. «Come lei dice, signore, è qui?» «Seguitemi», disse il capo. Gli altri abitanti del villaggio si fecero rispettosamente da parte, comprendendo il disgusto di Esther per il fango schifoso in cui era costretta a saltellare. Lì la prese fra le braccia e si rimise lo zaino sulle spalle, per poi seguire il capo lungo un sentiero nella foresta fino a una capanna a dieci lunghi tiri d'arco dal villaggio e una radura tra i larici. Il capo del villaggio si fermò fuori dalla capanna, fatta di peli tese su un'intalaiatura di legno. Il luogo era tutto decorato da zane di cinghiale e palchi di corna d'alce e di renna, ma non erano semplici trofei di caccia, perché vi erano appesi fiori secchi e rametti di pini intrecciati con cura, come disposti a fini rituali. «Devi parlarli con rispetto», disse calmo il capo villaggio. «È uno sciamano e il suo cuore è malato. Di colpo lì sentì un brivido corrergli lungo la schiena, e Esther gli si irrigidì fra le braccia, perché si accorsero di essere stati osservati per tutto il tempo. Da un punto situato tra i fiori secchi e i rametti di pino sbirciava un occhio di un giallo brillante. Era un daimon che sotto lo sguardo di lì voltò il capo. Prese delicatamente un rametto di pino nel becco robusto e lo spostò, quasi fosse stata una tenda, a coprire la fessura. Il capo villaggio gridò un saluto nella propria lingua, indirizzandosi all'uomo con il nome che gli aveva detto il vecchio cacciatore di foche, Giopari. Un attimo dopo la porta si aprì. In piedi sulla soglia, emaciato con gli occhi ardenti, c'era un uomo vestito di pelli e pellicce. I capelli neri erano striati di grigio, la mascella sporgeva con forza, e il suo daimon, una procellaria, li fissava duramente da sopra il suo pugno. Il capo villaggio si inchinò tre volte e poi si ritirò, lasciando lì solo con lo sciamano e accademico che era venuto a cercare fin lì. Dottor Grumman disse, il mio nome è Liz Corsby, vengo dal paese del Texas e faccio di professione l'aeronauta. Se vorrà consentirmi di sedere e parlare con lei per un poco, le dirò cosa mi ha condotto fin qui. È esatto, vero? Lei è effettivamente il dottor Stanislaus Grumman dell'Accademia di Berlino? Sì, disse lo sciamano, mentre lei proviene dal Texas, mi ha detto. I venti l'hanno condotta ben lontano dalla sua patria, signor Scorsby. Beh, vi sono strani venti che soffiano per il mondo in questi tempi, signore. Altroché, il sole è caldo, credo. Troverà una panca dentro la mia capanna, se mi aiuterà a portarla di fuori. Potremo sederci in questa gradevole luce e parlare all'alperto. Ho un po' di caffè, se le fa piacere prenderne qualche sorso. Davvero gentile da parte sua, signore, disse lì, e porto a lui stesso all'aperto la panca di legno, mentre Grumman si avvicinava alla stufa per versare la bevanda bollente in due tazze di latta. Il suo accento non suonava affatto tedesco, all'orecchio di lì, ma inglese, inglese dell'Inghilterra. Il direttore dell'osservatorio aveva ragione. Una volta sistemati, con essere seduta impassibile, gli occhietti piccoli, accanto a lì, e la grande procellaria Diamond con gli occhi fissi verso il sole. Lì attaccò il suo racconto. Partì dall'incontro a Trollesund con John Fa, il capo dei giziani, e gli raccontò come avevano reclutato Jorek Burninson, l'orso, e viaggiato fino a Bolvangar, salvando Lyra e gli altri bambini, e poi parlò di quanto aveva preso sia da Lyra che da Serafina Peccala, durante il volo sul pallone verso Svalbard. Vede, dottor Grumman, a me è sembrato, dal modo in cui la ragazzina lo ha descritto, che Lord Asriel abbia semplicemente usato questa testa mozzata conservata sotto il ghiaccio per impressionare gli accademici, e li abbia spaventati a tal punto che quelli non si sono messi a guardare poi tanto bene. È questo che mi ha fatto venire sospetto che lei potesse essere ancora vivo. E chiaramente, signore, lei deve avere in qualche modo delle conoscenze specialistiche in tutta questa faccenda. Ho sentito costantemente parlare di lei su tutte le coste della regione artica, di come si fosse fatto trapanare il cranio, di come l'oggetto dei suoi studi sembri variare dagli scavi sul fondo dell'oceano all'aurora boreale, di come lei si è apparso all'improvviso. Quasi si potrebbe dire spuntando fuori dal nulla, più o meno dieci o dodici anni fa, e tutto ciò è molto interessante. Ma c'è qualcosa che mi ha condotto fin qui, dottor Grumman, che va al di là della semplice curiosità. Io sono preoccupato per quella bambina. Io credo che sia importante, e lo credono anche le streghe. Se c'è qualche cosa che sta su di lei e su quello che sta succedendo, mi farebbe piacere che lei me ne mettesse a parte. Qualcosa, come l'ho detto, mi ha convinto che lei possa farlo, ed è per questo che sono qui. Ma sempre che non mi sia sbagliato, signore. Ho sentito dire, dal capovillaggio, che ero venuto qui per condurre lei in un altro mondo. Ho capito male? O questo è davvero ciò che lui ha detto? E un'altra domanda ancora per lei, signore. Cos'era quel nome con cui l'ha chiamata? Era una specie di nome tribale, o un titolo che spetta un grande mago? Grumman fece un breve sorriso, e poi disse, il nome che ha usato non è il mio vero nome, John Parry. Sì, lei è venuto qui per condurmi quell'altro mondo. E quanto a ciò che l'ha condotta fin qui, io credo che lei troverà che è stato questo oggetto. E aprì la mano. Sul palmo giaceva qualcosa che lì riusciva a vedere, ma non a capire. Vide un anello di argento e turchesi, di fattura, navaio. Lo vide bene, e lo riconobbe per quello della sua propria madre, poiché ne conosceva il peso, la levigatezza della pietra, e il modo in cui l'argentiere aveva ripiegato il metallo più strettamente nel punto in cui la pietra era scheggiata. E sapeva come quell'angolo scheggiato avesse finito per levigarsi anch'esso, per tutte le volte che vi aveva passato sopra le dita. Tante e tante volte, tanti e tanti anni fa, quando era un ragazzo nelle praterie coperte di salvia purpurea, della sua terra natale. Si trovò in piedi. Esther tremava, ritta sulle zampe posteriori, le orecchie drizzate. La procellaria si era spostata, senza che lì se ne accorgesse, tra lui e Grumann, pronta a difendere il suo uomo. Ma lì non aveva intenzione di attaccarlo, si sentiva tornato bambino, e fu con una voce tesa e incerta che domandò. Dove lo ha trovato? Lo prenda, disse Grumann, o parli che fosse. Ha concluso il suo compito, l'ha richiamata fin qui. Ora non ne ho più bisogno. Ma com'è? disse lì, prendendo quell'oggetto così amato dal palmo di Grumann. Non capisco come lei possa avere. Ha forse... come ha fatto a entrare in possesso? Sono quarant'anni che non vedo questo oggetto. Io sono uno sciamano, e sono in grado di fare un gran numero di cose che lei non capisce. Si sieda, signor Scorsby, stia calmo. Ora le dirò ciò che ha bisogno di sapere. Lì torna a sedersi, con l'anello in mano, passandovi sopra le dita senza posa. Beh, disse, sono rimasto scosso, signore. Credo proprio di aver bisogno di sentire tutto ciò che può dirmi. Molto bene, disse Grumann. Inizierò. Il mio nome, come le ho detto, è Parry, e io non sono nato in questo mondo. Lord Asriel non è certo stato il primo a viaggiare tra i mondi, anche se è stato il primo ad aprire la strada in un mondo così spettacolare. Nel mio mondo ero solo un soldato e un esploratore. Dodici anni fa stavo accompagnando una spedizione in un luogo del mio mondo, che corrisponde alla vostra terra di Bering. I miei compagni avevano altre intenzioni, ma io ero in cerca di una cosa, di cui avevo sentito parlare nelle antiche leggende, uno strappo nel tessuto del mondo, un buco che era comparso per collegare il nostro mondo con un altro. Beh, alcuni dei miei compagni si persero. Alla loro ricerca, io e gli altri due miei compagni passamo attraverso quell'apertura, quel buco, senza neppure vederla, e ci trovammo completamente fuori dal nostro mondo. All'inizio non ci rendemmo conto di quel che era successo. Continuammo fino a trovare una cittadina, e a quel punto sarebbe stato impossibile sbagliarsi. Eravamo in un mondo diverso. Beh, per quanto ci abbiamo provato con tutte le nostre forze, non ne siamo più riusciti a ritrovare quella prima porta. C'eravamo passati attraverso e in mezzo a una tempesta di neve e di vento, e lei è un vecchio esperto dell'artide. Sa bene che cosa significhi. Così non ci rimase altra scelta che rimanere in quel mondo, e ben presto scoprimmo che era un luogo pericolosissimo. Pareva che vi fosse una qualche presenza, un fantasma o un'apparizione che lo infestava, qualcosa di mortale e implacabile. I miei due compagni morirono poco tempo dopo, vittime degli spettri, come vengono chiamate quelle cose. Il risultato fu che trovai quel mondo un posto abominevole, e non vedevo l'ora di lasciarlo. La via per ritornare al mio mondo era chiusa per sempre, ma vi erano altre porte che conducevano ad altri mondi ancora, e con un po' di ricerche riuscii a entrare in questo. E così fu qui che venni, e non appena lo feci scoprì qualcosa di meraviglioso, signor Scorsby, perché i mondi sono assai diversi fra loro, e fu in questo mondo che vidi mio daimon per la prima volta. Sì, non avevo mai saputo niente di Saiyan Kothor, qui presente, fino al momento in cui sono entrato nel vostro mondo. Qui la gente non riuscirebbe neanche a immaginare un mondo in cui i daimon sono soltanto una voce silenziosa nella mente, e nulla più. Può la immaginare il mio stupore, a mia volta, nello scoprire che parte della mia natura era femminile, e in forma di uccello, e bellissima? Così, con Saiyan Kothor accanto, ho vagato per le terre del nord, e ho imparato un bel po' di cose dai popoli delle ragioni artiche, come i miei amici nel villaggio qua giù. Quello che mi dissero di questo mondo servì a riempire dei buchi nelle conoscenze che avevo acquisito nel mio, e cominciò a vedere le risposte a molti misteri. Arrivai fino a Berlino, sotto il nome di Grumann. Non dissi a nessuno delle mie origini. Era il mio segreto. Presentai una tesi all'accademia, e la defesi in un pubblico contraddittorio, secondo il loro metodo. Ero meglio informato di quegli accademici, e non trovai difficoltà a essere ammesso fra loro. Così, con queste nuove credenziali, potei cominciare a lavorare in questo mondo, dove mi sono trovato, nel complesso, assai contento. Mi sono mancate alcune cose del mio, certo. L'hai sposato, signor Scorsby? No? Beh, io lo ero, e amavo molto mia moglie. Come amavo mio figlio? Un bambinetto, che non aveva ancora un anno, quando sono uscito per caso dal mio mondo. Mi sono mancati terribilmente, ma potrei cercare mille anni, e non troverai mai la strada per tornare indietro. Siamo separati e divisi per sempre. Ma comunque sono stato assorbito dal lavoro. Cercai altri tipi di sapere. Sono stato iniziato al culto dei teschi. Sono divenuto uno sciamano. E ho fatto qualche utile scoperta. Ho trovato un modo di preparare un unguetto dal muschio sanguigno, per esempio, che mantiene le virtù della pianta appena colta. So davvero molto di questo mondo, a questo punto, signor Scorsby. So, per esempio, della polvere. Vedo dalla sua espressione che lei ha già sentito la parola. Sta spaventando a morte i vostri teologi, ma sono loro a spaventare me. Io so quel che sta facendo Lord Asriel e perché. Ed è per questo che ho chiamato qui lei. Ho intenzione di aiutarlo, vede. Perché il compito che ha intrapreso è il più grande dell'intera storia umana. Il più grande in 35.000 anni di storia umana, signor Scorsby. Non posso far molto, per conto mio. Il mio cuore è malato, ben oltre le capacità di cura di qualunque abitante di questo mondo. Forse mi resta ancora la forza di compiere un unico grande sforzo. Ma io so una cosa che Lord Asriel non sa e che ha bisogno di sapere perché i suoi sforzi possono andare a buon fine. Vede, ero rimasto colpito e affascinato da quel mondo infestato dagli spettri che si nutrono della coscienza umana. Volevo sapere che cosa fossero, come fossero venuti in essere. E nella mia qualità di sciamano posso scoprire delle cose in forma di spirito in luoghi in cui non posso recarmi con il mio corpo. E così ho passato molto tempo in trance, a esplorare quel mondo. Ho trovato che i filosofi laggiù, secoli fa, avevano creato uno strumento che sarebbe stato la loro stessa rovina. Uno strumento che viene chiamato la lama sottile. Era dotato di molti poteri, molti più di quanti ne avessero immaginati quando lo forgiarono e molti più di quanti ne conoscano ancora adesso. In qualche modo nell'usarlo avevano aperto la porta agli spettri. Insomma, io so della lama sottile e di ciò che può fare e so dove si trova. So come riconoscere colui che dovrà usarlo e so ciò che egli dovrà fare per la causa di Lord Asriel. Spero che sia all'altezza del suo compito. Quindi ho chiamato lei fino a quassù e lei dovrà portarmi in volo verso nord, nel mondo che Asriel ha aperto al passaggio, dove io attendo di trovare il portatore del coltello. È un mondo pieno di pericoli, ma di bene. Quegli spettri sono peggiori di qualsiasi altra cosa del suo mondo o del mio. Dovremmo essere attenti e coraggiosi. Io non ritornerò e se lei vuoi rivedere un'altra volta il suo paese avrà bisogno di tutto il suo coraggio, di tutta la sua abilità, di tutta la sua fortuna. Questo è il suo compito, signor Scorsby. È per questo che lei è venuto a cercarmi. E lo sciamano tacque. Il suo viso era pallido, coperto da un lieve strato di sudore. Questa è l'idea più folle e maledetta che abbia mai sentito in vita mia, disse Lee. Si alzò per l'agitazione e fece un passo o due da una parte e poi tornò indietro, mentre Esther lo guardava dalla panca senza sbatterle palpebre. Gli occhi di Grumann erano semi chiusi. Il suo daemon era appolaiato sul suo ginocchio e osservava Lee con diffidenza. Vuole del denaro? Disse Grumann dopo qualche momento. Posso procurarle dell'oro. Non è una cosa difficile. Accidenti! Non è per l'oro che sono venuto, disse Lee. Tutto acceso. Sono qui. Sono venuto per vedere se lei era ancora vivo come pensavo. Beh, la mia curiosità è piuttosto soddisfatta su questo punto. Mi fa piacere saperlo. E poi c'è un altro aspetto di questa faccenda, aggiunse Lee, e raccontò Grumann del consiglio delle streghe presso il lago Enera e della risoluzione che le streghe avevano preso. Vede, finì, quella ragazzina la era. Beh, lei è la ragione per cui mi sono dedicato ad aiutare le streghe. Lei dice di avermi condotto qui con quell'anello navaio. Forse è così o forse no. Quello che so io è che sono venuto qui perché pensavo di poter dare una mano all'era. Se avrò mai una figlia mia, spero che sia forte, coraggiosa e buona la metà di lei. Ora, io avevo sentito che lei sapeva di qualche oggetto. Non immaginavo cosa potesse essere che conferisce protezione a chiunque ne sia portatore. e da quel che dice lei credo debba trattarsi della lama sottile. Quindi, questo è il mio prezzo per condurla nell'altro mondo, dottor Grumman. Non l'oro, ma quella lama sottile e non la voglio per me stesso, ma per Lyra. Lei deve giurare che la metterà sotto la protezione di quell'oggetto e allora io la porterò ovunque lei voglia. Lo sciamano lo ascoltò con attenzione e disse «Molto bene, signor Scorsby, io lo giuro». «Ha fiducia nel mio giuramento?» «Su che cosa giura?» «Su quel che vorrà lei». Ly pensò un poco e poi disse «Giuri su quella cosa, qualunque cosa essa fosse, che l'ha fatto rifiutare l'amore della strega. Credo proprio che sia la cosa più importante che lei conosca». Gli occhi di Grumman si spalancarono. Poi lo sciamano disse «Lei ha ragione, signor Scorsby. Sarò felice di giurare su questo. Le do la mia parola che mi accerterò che la bambina all'aera bell'acqua sia sotto la protezione della lama sottile». Però l'avverto «Il portatore del coltello ha i suoi compiti da assolvere e potrebbe darsi che nell'assolverli la trascini in pericoli ancora più grandi». Ly annui sobriamente «Forse», disse «Ma qualunque anche la più piccola possibilità di sicurezza vi sia voglio che lei ne goda». Alla mia parola «Ora io devo andare nel nuovo mondo e lei mi ci deve condurre». E il vento non sarà stato così malato da non poter osservare il tempo immagino. Al vento ci penserò io». Ly annui tornò a sedersi sulla panca continuando a passare le dita sull'anello di Turchese mentre Grumann raccoglieva le poche cose di cui aveva bisogno in una sacca di pelle di renna e poi entrambi ridiscesero per il sentiero nella foresta fino al villaggio. Il capo parlò per qualche tempo sempre più numerosi gli abitanti del villaggio vennero fuori a toccare la mano di Grumann mormorando qualche parola e ricevendone in cambio quella che pareva essere una benedizione. Ly intanto osservava il tempo verso sud il cielo si era schiarito e una brezza profumata di fresco cominciava a sollevare i ramoscelli e agitare le cime dei pini. A nord la nebbia incombeva ancora pesantemente sul fiume ma era la prima volta da diversi giorni che pareva esservi la promessa di una schiarita. Presso la roccia dove si era trovata la banchina egli sollevò la borsa di Grumann fin nella barca e riempì il serbatoio nel piccolo motore che si accese subito si avvicinò dalla riva e con lo sciamano a prua la barca accelerò con la corrente sfrecciando sotto gli alberi e planando fin nel fiume principale con tanta velocità che lì ebbe paura per essere accucciata proprio all'estrema prua anche se poi lei era un'esperta viaggiatrice e lui avrebbe dovuto saperlo benissimo perché era così maledettamente nervoso quando raggiunsero il porto alla bocca del fiume trovarono che ogni albergo ogni pensione ogni stanza privata era stata requisita dall'esercito e non erano soldati qualunque inoltre erano truppe della guardia imperiale di Muscovia l'esercito più ferocemente addestrato e più generosamente occupaggiato del mondo che per di più era un sostenitore giurato del potere del magisterium lì aveva pensato di riposare una notte prima di partire perché Grumann pareva averne bisogno ma non c'era la minima possibilità di trovare una stanza ma che sta succedendo chiese al battegliere restituendogli la barca presa in affitto non lo sappiamo il reggimento è arrivato ieri e ha requisito ogni possibile alloggio ogni particella di cibo ogni nave in tutta la città avrebbero preso anche questa barca se non fosse arrivato prima lei sa dove sono diretti a nord disse il battegliere c'è una guerra che deve essere combattuta da tutto quel che si sente la più grande guerra mai combattuta a nord dentro proprio quell'altro mondo proprio così e devono arrivare altre truppe questa è solo l'avanguardia nel giro di una settimana non avremo più né un tozzo di pane né un gallone di alcol bel favore mi ha fatto a prendere questa barca il prezzo è già raddoppiato a questo punto non aveva alcun senso fermarsi a riposare ammesso che avessero trovato posto pieno d'ansia per il suo pallone lì si diresse verso il magazzino in cui l'aveva lasciato con gruman accanto quell'uomo si stava dimostrando all'altezza della situazione pareva star poco bene ma era un duro il magazziniere occupato a contare dei pezzi di ricambio per qualche tipo di motore per un sergente della guardia impegnato nella requisizione alzò rapidamente lo sguardo dalla tavoletta su cui teneva i suoi fogli pallone che peccato requisito ieri disse vede bene com'è la situazione non ho scelta ester piegò rapidamente le orecchie e lì capì quel che voleva dire ha già consegnato il pallone chiese verranno a ritirarlo questo pomeriggio niente affatto disse lì perché io ho un'autorità superiore a quella della guardia e mostrò a magazziniere l'anello che aveva preso allo screiling morto della nuova zembla il sergente vicino a lui davanti al bancone si arrestò in quel che stava facendo e fece saluto alla vista del simbolo della chiesa ma con tutta la sua disciplina non poteva impedire che un brivido di perplessità li passasse sul viso quindi preparateci subito il pallone immediatamente disse lì e incaricate qualche uomo di riempirlo di idrogeno e voglio dire subito compresi cibo acqua e zavorra il magazziniere guardò il sergente che si strinse nelle spalle e poi si affrettò a occuparsi del pallone lì e Grumman si ritirarono sulla banchina dove si trovavano i serbatoi del gas per sorvegliare il riempimento del pallone e parlare piano fra loro dove si è procurato quell'anello disse Grumman dal dito di un morto un po' rischioso usarlo ma non ho trovato altro modo per recuperare il pallone secondo lei il sergente ha sospettato qualcosa certo che ha avuto dei sospetti ma un uomo disciplinato non metterà in discussione la chiesa se anche dovesse fare rapporto ci saremo allontanati di un bel po' prima che possano farci qualcosa beh le avevo promesso un vento signor Scorsby spero che le piacerà sopra di loro adesso il cielo era blu e il sole brillava a nord dei banchi di nebbia erano ancora fitti come una catena di montagne ma la brezza li stava respingendo all'indietro sempre di più e lì era impaziente di ritrovarsi in aria mentre il pallone si riempiva e cominciava a gonfiarsi al di sopra del tetto del magazzino lì controllò la cesta e sistemò il suo equipaggiamento con particolare cura perché chi poteva sapere che razza di turbolenza avrebbero potuto incontrare nell'altro mondo anche i suoi strumenti li fissò nell'intalaiatura con particolare attenzione compresa la bussola il cui ago ondeggiava per tutto il quadrante del tutto inutile infine sistemò una dozzina di sacchi di sabbia attorno alla cesta per far da zavorra quando il pallone fu pieno e cominciò a inclinarsi verso nord per la spinta del vento e l'intero apparato cominciò a sforzare corde robuste che lo tenevano ancorato a terra lì pagò il magazziniere con il suo ultimo oro e aiutò Grumman a entrare nella cesta poi si volse agli uomini che tenevano le corde per dall'ordine di mollare ma prima che potesse farlo vi fu un'interruzione dal vicolo al lato del magazzino giunse un suono di stivali in marcia a passo di carica e un grido di comando alt gli uomini alle corde si bloccarono alcuni di loro guardarono in quella direzione altri guardarono lì e questi gridò con decisione molla lascia andare due obbedirono e il pallone balzò in alto ma gli altri due avevano fissato la propria attenzione sui soldati che stavano aggirando a passo di carica l'angolo dell'edificio questi uomini continuavano a tenere le funi fissate all'ormeggio e il pallone si inclinò paurosamente da un lato lì afferrò l'anello di sospensione e anche grumann vi si appoggiò e suo daimo gli serrò attorno agli artigli lì gridò mollate maledetti imbecilli ormai sta salendo perché la forza di galleggiamento del pallone era troppo grande e i due uomini per quanto si sforzassero non riuscivano a tenerlo a terra uno lasciò andare e la relativa fune si liberò dalla bitta con un colpo di frusta ma l'altro sentendo la fune sollevarsi invece di lasciarla andare istintivamente vi si aggroppò più forte lì aveva già visto accadere e temeva che potesse succedere il demon del pover uomo un aschi grosso e pesante ululò di dolore e paura da terra mentre il pallone si levava in alto verso il cielo e cinque interminabili secondi dopo tutto era finito all'uomo mancarono le forze e cadde mezzo morto schiantandosi nell'acqua ma i soldati avevano già afferrato i fucili una raffica di pallottole fischiò oltre la cesta e una trasse una scintilla dall'anello di sospensione facendo male alla mano di lì per l'impatto ma nessuna di esse causa alcun danno nel momento in cui i soldati riuscirono a sparare il secondo colpo il pallone era ormai quasi fuori portata sempre più in alto nell'azzurro e sempre più veloce sul mare lì sentì il suo cuore sollevarsi con il pallone aveva detto una volta Serafina Peccala che a lui volare non importava che era soltanto un lavoro come un altro ma non parlava sul serio levarsi in alto con un buon vento alle spalle e un nuovo mondo davanti cosa poteva esserci di meglio in questa vita lasciò andare l'anello di sospensione e vide che ester era accucciata nel suo solito angolo gli occhi semi chiusi da molto in basso e molto più lontano giunse un'altra futile rafica di spari la città si allontanava veloce e l'ampia distesa dell'estuario del fiume brillava al sole sotto di loro beh dottor Grumann disse non so lei ma io mi sento meglio in aria vorrei che quel poveraccio avesse lasciato andare la fune però è la cosa più facile del mondo ma se non lo fai subito non c'è più speranza la ringrazio signor Scorsby disse lo sciamano ha gestito la situazione davvero assai bene ora sistemiamoci e vogliamo le sarei grato se mi passasse quelle pellicce l'aria è ancora fredda fine capitolo ci vediamo al prossimo video ciao